15 settembre è una data importante, Fridays for Future quest'anno ha deciso di presenziare a Ventimiglia con una piccola ma significativa manifestazione. Oggi è il 15 settembre, è una data scelta a livello internazionale per riportare l'attenzione sulla crisi climatica e sociale, in particolare il tema principale di questo giorno internazionalmente è la lotta al combustibile fossile perché la scienza ci dice più o meno dagli anni 80 che bruciare i combustibili fossili vuol dire condannare in questo momento la nostra società a un seseguirsi di eventi climatici estremi. Il collegamento con il cambiamento climatico, il combustibile fossile con il cambiamento climatico è diretto e la scienza ce lo dice bene chiaramente. Tutti gli accordi internazionali in questo momento, pensiamo alle ultime COP, pensiamo agli accordi europei, chiedono, pregano di ridurre e uscire dall'era del fossile eppure l'Italia, assieme, mi viene chiaramente in mente il piano Mattei del governo Meloni, dove il centro è il gas fossile, continuiamo a investire sui combustibili fossili. Quindi continuiamo a vincolare il nostro paese e l'intero, insomma, tutta la popolazione a eventi climatici estremi come quelli che già stiamo sperimentando. Voglio ricordare l'alluvione che abbiamo avuto nel 2020 che ci ha portato via la passerella di Ventimiglia, voglio pensare all'Emilia Romagna, voglio pensare al vento terribile che ha portato via gli alberi in Lombardia. Sono tutti eventi legati direttamente alla crisi climatica. Siamo qua oggi per chiedere stop ai combustibili fossili. È un giorno in cui proviamo un nuovo linguaggio, non siamo qua in corteo, il corteo sarà il 6 ottobre a Sanremo, facciamo corteo vero e proprio, ma a livello nazionale oggi, il 15 settembre, si prova un linguaggio nuovo, si prova una narrazione in positivo. Vogliamo seminare utopie e vogliamo provare a immaginare un futuro diverso dove combustibili fossili lasciano lo spazio alle fonti energetiche alternative, dove la classe e il merito lasciano lo spazio ai diritti, all'umano, un futuro dove tutti possono effettivamente sentirsi inclusi, possono passare le frontiere. Sono temi che sono scottanti in questo momento nel nostro territorio e quindi un linguaggio nuovo, seminare utopie, perché se noi proviamo a immaginare effettivamente un nuovo futuro, da lì poi possiamo imparare, possiamo provare a concretizzarlo, a organizzarlo, a farlo diventare realtà. Non tra cinque anni, quando abbiamo finito il tempo della nostra risoluzione, ma adesso, domani.